Stava a pensare, ma che vado ad andare al multisala? Eh? Come di un esempio non ci andavamo mai. Dai, che si ammazzano dei caramelli. Ti ricordi quella volta che tuo padre ha comprato quelle rotonde che mi sono sentita male? Ti ricordi che erano le liquidizie quelle lì che... È diverso, ma... Vabbè, io so che in molti dovrei dire una cosa giusta. Una cosa che ti aiuta magari, no? Lo sai che c'è? È che la verità è che io avrei avuto... Avrei voluto... Stringere tuo padre una volta solo l'ultima.